seppellito in auto tra le campagne di calimero una frazione di san calogero nel vibonese svolta sull'omicidio tutino andranghete alla metina confiscati appartamenti e terreni per 700 mila euro minacce ai parroci del vibonese a cessaniti è arrivato l'esercito tauria nova capitale italiana del libro al salone di torino l'invito della regione salve ben ritrovati con l'informazione di calabria tv i carabinieri del comando provinciale di vibo valencia e del reparto crimini violenti dei rosso hanno arrestato i due presunti colpevoli dell'omicidio di salvatore tutino il cui corpo è stato reinvenuto bruciato all'interno di un'auto nelle campagne tra le province di vibo valencia e reggio calabria i carabinieri del comando provinciale di vibo valenza e del reparto crimini violenti del raggruppamento operativo speciale hanno arrestato due persone una delle quali già detenuta per associazione mafiosa e associazione finalizzata al traffico di sostanze soppefacenti mentre l'altra con precedenti in materia di armi ritenute responsabile dell'omicidio di salvatore tutino del 61 il cui corpo carbonizzato è stato reinvenuto all'interno di un'auto crivellata di colpi di fucili data alle fiamme e interrata tra le campagne della frazione di calimera a san calogero nel gennaio del 2022 il tutto nasce dalla segnalazione carabinieri di san calogero del proprietario di un fondo agricolo in località barile nei pressi del torrente mesigma tra la provincia di reggio calabria e quella di vibo valenza l'uomo nel recarsi nel proprio aranceto si era accorto della presenza anomala di solchi diplomatici che lo avevano portato nel luogo dove ha visto una fiat panda bruciata e sentito un forte odore di decomposizione i carabinieri giunti sul luogo hanno potuto accertare come qualcuno avesse cercato di occultare l'auto e il cadavere con alcuni mezzi meccanici facendo una buca nel terreno trasformando l'omicidio in un caso di lupara bianca le ulteriori indagini hanno permesso di risalire al proprietario dell'auto poi identificato in salvatore tutino la cui scomparsa era stata denunciata dalla figlia ai carabinieri di rosarno che non riusciva a contattarlo durante le due optopsie si è accertato che la vittima era stata colpita da più colpi di fucile caricato a pallettoni calibro 12 gange che lo hanno ucciso le indagini hanno svelato sin da subito che il possibile collegamento tra gli autori e la vittima fosse da rintracciare nell'ambito dello spazio della produzione di stupefacenti infatti sembrerebbe che tutino avesse un credito di qualche decina di migliaia di euro nei confronti di uno dei due indegati sempre per motivi legati alla produzione di stupefacenti e che non riusciva a riscuotere neanche dopo averne danneggiato la coltivazione di kiwi e aver minacciato la famiglia tali gesti avrebbero scatenato una minacciosa reazione uno dei due presunti responsabili ha infatti pubblicato sul noto social network alcuni contenuti usando come sottofondo una canzone il cui testo era un mix tra minaccia velata e un rito di affiliazione dell'andrangheta chi tanto parla niente guadagna solo una cassa fatta da quattro legni e così hanno scritto i cavalieri di spagna la lingua è peggio della gramigna la svolta delle indagini è stata data dal ritrovamento nei pressi della buca di un accendino verde raffigurante una banca note da 100 euro con il quale si presume l'auto sia stata data alle fiamme nonostante non vi siano state trovate tracce utili per la comparazione del dna ha consentito di raccogliere importanti elementi utili allo sviluppo delle indagini un'ulteriore svolta è scaturita dall'analisi dei contenuti telematici rinvenuti nel tablet e nei cellulari sequestrato ad uno degli indagati un'indagine questa estremamente complessa che ha costretto gli investigatori a valutare milioni di dati freddi ottenuti dalla corposa mole di intercettazioni e dal rilevamento del traffico delle celle in diverse e ampie aree di copertura tra le province di reggio calabria e di vivo valenzia in gergo vengono chiamati cold case casi freddi cioè quei casi che non si è riusciti a risolvere nel giro di pochi giorni e che hanno necessitato di indagini elaborate molto complesse l'omicidio di salvatore tutino rientra pienamente in questi casi è stata fatta luce su un caso di omicidio che si stava trasformando in una lupara bianca si tratta sicuramente di un crimine ferato le indagini sono partite dopo circa un mese dalla scomparsa di salvatore tutino i familiari hanno dato l'allarme alla tenenza di rosarno mentre il corpo è stato rinvenuto in località carimera della provincia di vivo valenzia sostanzialmente l'attività investigativa è stata estremamente complessa coordinata dalla procura di vivo valenzia ha visto interessati non solo gli investigatori del comando provinciale ma anche gli investigatori del reparto crimini violenti del ros e gli specialisti del ris di parma non sottolineate le indagini perché da quello che si è capito ci sono delle altre persone coinvolte le indagini sono ancora in corso come dicevo sono estremamente complesse per cui al momento c'è stato questo questa prima risposta comunque le indagini sono ancora in corso è stata un'indagine molto complessa soprattutto per la mole di dati che sono stati acquisiti analizzati se si pensa che solo per quanto riguarda il traffico telefonico abbiamo analizzato e messo a sistema con altre emergenze investigative oltre 234 milioni di stringhe di traffico telefonico altrettanto è stata la mole dei dati analizzati rinvenienti dal dall'analisi del dei telefoni cellulari e degli hard disk parliamo di quantità una consistente di dati se si pensa che sono state pagliate analizzate oltre 20 mila foto e video oltre 1500 audio e almeno 15 mila chat avete fatto luce finalmente su un caso che poteva diventare di lupara bianca si era un caso che nipotesi doveva restare di lupara bianca siamo stati fortunati di solito gli omicidi si risolvono nelle prime 24 48 ore qui siamo partiti con un po di ritardo perché la scoperta del corpo perché stanno tentando di sotterrarne appunto il corpo dopo l'omicidio è avvenuto a distanza di un mese e per cui è stato tutto un po più difficile abbiamo dovuto fare una serie di indagini complesse di ricostruzione a ritroso con una serie di dati e diciamo abbiamo utilizzato le migliori professionalità che i carabinieri hanno nel campo delle delle investigazioni perché ad un certo punto abbiamo chiesto ottenuto e li ringrazio la professionalità del reparto per le investigazioni sui crimini violenti del rosso di roma oltre alla ai reparti del comando provinciale dei carabinieri di vibo valenza e quindi diciamo per fortuna si sarà inceppato qualcosa quando stavano sotterrando il corpo per cui a distanza di un mese abbiamo rinvenuto carbonizzato all'interno dell'autovettura ma è stato ucciso lì oppure è stato portato lì questa è la nostra l'ipotesi che noi abbiamo percorso che sia stato diciamo ucciso nei pressi nelle vicinanze di dove poi è stato ritrovato il corpo nuova perizia medica la perizia sulle ossa fragili sull'aggressione del 22enne bolognese davide ferrerio avvenuta l'11 agosto del 2022 a crotone da parte del 23enne nicolo passalacqua per un errore di persona la corte d'appello di catanzaro si appresta a valutare la nuova perizia medica relativa all'aggressione subita da davide ferrerio un giovane bolognese di 22 anni avvenuto l'11 agosto del 2022 a crotone per un tragico errore di identità perpretato dal 23enne nicolo passalacqua quest'ultimo è stato condannato in abbreviato a 20 anni e 4 mesi di carcere per tentato omicidio il collegio di secondo grado responsabile del processo nei confronti del 23enne ha concesso ai legali dei familiari della vittima il termine del 25 marzo per decidere se accettare o meno la nuova consulenza redatta dal professor francesco introna docente ordinario di medicina legale presso l'università di bari nel caso in cui il parere sia negativo la corte provvederà comunque durante l'udienza del 3 aprile a incaricare lo stesso professore di preparare un ulteriore elaborato da esiminare questa decisione soddisfa la richiesta del difensore dell'aggressore parliamo dell'avvocato salvatore jannone che ha proposto la riapertura dell'istruttoria proprio per valutare le conclusioni del medico legale presentate al tribunale di crotone sono state imputate altre due persone la 43enne anna perugino e andrei gallu di 35 anni accusato di concorso anomalo intentato omicidio proprio per aver partecipato all'aggressione che ha gravemente ferito davide confiscati definitivamente beni immobili per circa 700 mila euro i finanzieri del gruppo di l'amezia terme hanno disposto la confisca definitiva del patrimonio direttamente o indirettamente riconducibile ad un soggetto accusato di essere vicino alle consorterie criminali locali gravato da precedenti penali e caratterizzati da sproporzione tra somme dichiarate e beni posseduti ad essere destinatario del provvedimento è raffaele calidonna coinvolto in passato nell'operazione asta la vista su un presunto sistema di illegalità nella gestione delle aste in particolare attraverso specifici e meticolosi accertamenti economico finanziari sul conto del nominato è stato possibile ricostruire il profilo economico patrimoniale di vari soggetti coinvolti in prima persona per l'interposizione fittizia nelle varie disponibilità patrimoniali individuando acquisizioni di beni immobili quali abitazioni e terreni privi di giustificazione per un valore di circa 700 mila euro sui quali l'autorità giudiziaria ha disposto la confisca nel complesso alla luce degli approfondimenti investigativi svolti i finanzieri hanno sottoposto a misura ablativa definitiva cinque appartamenti e due fondi agricoli situati in diversi comuni della provincia di Catanzaro a Cissagniti piccolo centro dell'interlanda vibonese dove nelle ultime settimane si sono concentrate una serie di intimidazioni verso parroci amministratori e associazioni è arrivato l'esercito per assicurare un minimo di tranquillità alla popolazione è arrivato l'esercito a Cissagniti per svolgere attività di vigilanza sul territorio affiancandosi ai carabinieri dopo le intimidazioni subite di recente da due parroci don felice panamara e don francesco pontoriero il piano di vigilanza con l'ausilio dell'esercito è stato predisposto dal prefetto di vivo valenza giovanni greco allo scopo di intensificare i servizi di sicurezza del controllo del territorio intanto proseguono le indagini dei carabinieri tenendo presente che la situazione dell'ordine pubblico in provincia di vivo valenza sta registrando un ulteriore elemento di preoccupazione considerato che le intimidazioni non hanno risparmiato nemmeno il vescovo della diocesi monsignor attirio nostro indagini a tutto campo come conferma il comandante provinciale dell'arma le indagini sono estremamente complesse e serrate non stiamo trascurando nessun aspetto l'esercito rientra in una manovra più ampia fatta a livello centrale tra le autorità centrali che vede un dispositivo strade sicure implementare anche diciamo gli assetti della polizia dei carabinieri della provincia di vivo valenza in questo momento d'intesa con il prefetto e questore abbiamo deciso di far gravitare l'esercito in questa prima questa prima parte in questa in questo periodo sicuramente tra mileto e cessaniti e farli controllare alcuni obiettivi sensibili è chiaro che i colleghi dell'esercito non si muovono da soli ma si muovono nell'ambito di un dispositivo più più articolato insieme all'arma dei carabinieri e alla polizia di stato il vice sindaco di reggio calabria brunetti contesta i dati riportati nella sesta edizione di ecoforum alla cittadella riguardo la raccolta differenziata a reggio calabria ascoltiamo il vice sindaco con delega all'ambiente del comune di reggio calabria brunetti stigmatizza i dati dice errati diffusi nel corso della conferenza stampa in cittadella nell'ambito della sesta edizione di ecoforum i dati relativi alla raccolta differenziata dei comuni calabresi dice brunetti diffusi in cittadella non corrispondono affatto alla realtà reggio calabria non è al 18,1 per cento di differenziata come gli autori del report affermano ma più del 41 per cento a certificarlo sono i dati dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per il sistema nazionale per la protezione dell'ambiente organismi scientifici nazionali che indicano nonostante le difficoltà dati di tutto rispetto per la nostra città siamo consapevoli continua brunetti che la raccolta differenziata debba ancora crescere a reggio ma ci stupisce l'assoluta disinformazione diffusa da certe associazioni corrisse così di vanificare il lavoro fatto in questi anni la città di reggio continua brunetti incontra certamente maggiori difficoltà nella gestione del circuito della differenziata rispetto a comuni più piccoli ma c'è da precisare continua brunetti che la città di reggio la più grande popolosa della calabria incontra certamente maggiore difficoltà nella gestione del circuito della differenziata rispetto ai comuni più piccoli ma il dato ufficiale del 41,2 per cento peraltro riferito al 22 e probabilmente cresciuto nel 2023 costituisce un segnale certamente incoraggiante che deve farci comprendere la necessità di aumentare le quantità di rifiuti differenziati non convincono così le modalità con le quali gli organizzatori dell'Ecoforum abbiano diffuso pubblicamente dati di cebrunetti completamente errati il sindaco Biasi e l'assessore fedele di Taurianova hanno incontrato a Catanzaro la vicepresidente Giussi Princi per la partecipazione al Salone del Libro di Torino il sindaco di Taurianova Roy Biasi ha incontrato a Catanzaro la vicepresidente della giunta regionale Giussi Princi in vista della partecipazione al Salone internazionale del Libro di Torino su invito della regione nell'incontro cui rappresenta anche l'assessore alla cultura Maria Fedele gli amministratori della città designata quale capitale italiana del Libro per il 2024 hanno riscontrato con favore le indicazioni e suggerimenti proposti per l'ottimale presenza nello stand della regione Calabria soprattutto per quanto riguarda la partecipazione alla giornata di sabato 11 maggio e il possibile coinvolgimento delle scuole cittadine e hanno rinnovato la soddisfazione già espressa dal primo cittadino al presidente Roberto Chiuto per l'assoluta aderenza tra gli intendimenti pratici e simbolici della regione e quelli del comune sia Biasi e Fedele che Princi hanno convenuto sulla necessità che l'assoluta rilevanza che la regione sta dando alla sua partecipazione alla prestigiosa Kermesse dimostrata dalla occupazione di un'area di ben 200 metri venga esaltata grazie al rilevo nazionale che la cittadina della Piana di Gioia Tauro ha ottenuto a seguito di un progetto culturale improntato alla voglia di riscatto da considerare tra i segni più emblematici di quella emozioni e poesia esplora l'incanto della Calabria che la regione proporrà con tema centrale a Torino dal 9 al 13 maggio ha sostenuto Biasi vogliamo fare in modo che l'anno di Taurianova capitale produca frutti che vadano al di là del tempo penso ad esempio alla strutturazione definitiva di quella vocazione ricettiva che nel campo dell'arte e della cultura la città ha già tratteggiato in questi anni Il lavoro del cestaio è un vecchio mestiere che un tempo rappresentava insieme all'agricoltura il motore dell'economia locale Graziano Tomarchio ha incontrato il maestro cestaio Vincenzo Bilotta di Francavilla Angitola Siamo a Francavilla Angitola e siamo con il signor Vincenzo Vincenzo, tu sei il cestaio Il cestaio Ecco, questo lo fai per passione Per passione Ecco, come nasce questa passione di fare le ceste? Allora, quando ero piccolo piaceva guardare come facevano queste cose qua e così mi sono insegnato a fare E hai realizzato delle ceste Quindi oggi lo fai per hobby Sì Ecco, quanto ci metti a fare un cesto, diciamo, di pensione Ecco Vabbè, ci vogliono due o tre ore ci vogliono Per realizzarlo Ecco, si parte da questa Allora Questa che sei, è la base questa? Questa è la base Sì Che poi si intrecciano così e magari vi faccio vedere Ecco, intanto che usiamo? Che materiale stiamo usando? Questa è la salice La salice? Questa si va nel fiume a prenderla? Sì All'orgo del fiume, no? Sì La salice che nasce nel fiume E poi si mette ad asciugare? E poi si mette ad asciugare? Pure per legare i viti, il vigneto Il vigneto Dico, ma si mette ad asciugare? Si mette a bagno o no? Quando è fresco va bene così Altrimenti se è asciutto si mette a bagno e poi viene morbida Viene morbida, quindi pezzo per pezzo naturalmente si realizza Ecco, questa diciamo che è la base E poi si fa Si intreccia Si intreccia ma è male che viene alla fine Ecco, ci sono giovani o persone che vogliono imparare? No, non ce n'è più Non ce n'è più? No, no, non ci sono Sono radissime Ecco, qualche familiare tuo Qualche tipotino, qualche figlio Non ci sono più, no Non ci sono, quindi finisce qui e con questo Finisce qui e muore tutto E muore tutto Quante cesta hai fatto? Non lo ricordo, ne ho fatto tante e regalate a tanti amici Più che altro te le chiedono gli amici per la campagna Per diciamo la raccolta dell'uva Raccolta per tutto Per tutto, sì Ecco, una volta venivano notate di più queste, vero? Sì, si raccoglieva i feco Si raccoglieva tante cose Olive anche, tutto Giardinaggio Se usavano fa tante Tante cose È tutto per questa edizione Grazie per aver seguito il nostro TG Grazie per aver guardato il nostro TG Grazie per aver guardato il nostro TG Grazie per aver guardato il nostro TG